iModela Day in Roland, dopo aver dato ad ogni Fab Lab la propria iModela ecco che tutti quanti iniziano a installare la macchina, driver, software, hardware da Palermo, ancora col cello fan no, ce l'ha detto Paolo va bene, d'accordo software scaricati, perfetto guarda, guarda, il cugino già inizia ma non si può modelli CAD installazione driver grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.